E' sicuramente il calciatore del Bari più in forma del momento, Nadarevic. Dopo l'episodio del morso all'avversario, ora il Bosniaco sta facendo parlare di sé per altri motivi. I suoi assist, la sua potenza e la velocità lo rendono tra i migliori esterni della Serie B. Il salto di categoria è il suo sogno, così come un posto nazionale in vista dei mondiali in Brasile. Io lo so che non l'ho fatto, che io non ho morso. Poi l'arbitro ha detto che l'ho fatto. Poi pure il giocatore ha detto che non l'ho fatto. Però l'arbitro ha visto così e ha scritto che l'ho morso. Io ho scelto Bari anche per questo, perché sapevo che qua posso dimostrare quanto valgo e che valgo di più della Serie B. Se continuo così, penso che mi chiama. Anzi sono convinto, se faccio così come adesso, anzi devo fare ancora meglio. Con chi te la giochi? Non lo so, c'è l'Ulic a sinistra, però io posso giocarmela con tutti, perché non penso che ci sono tanti che sono più forti di me. E' solo così vai avanti. Per me io sono più forte di tutti.